Ci troviamo ai confini della provincia di Vicenza, siamo in prossimità, come potete vedere, di un'ansa del fiume Brenta e qui abbiamo calcolato che è localizzato l'epicentro del terremoto che ha colpito tutto il sistema bancario della regione Veneto in particolar modo richiamando in causa per i fatti di cronaca finanziaria i casi di Veneto Banca e Popolare di Vicenza, infatti ci troviamo proprio a metà strada tra Vicenza e Montebelluna. Quante volte ve lo abbiamo detto, fate attenzione alle banche non quotate, come è possibile che banche quotate in borsa abbiano perso negli anni precedenti dal meno 70 al meno 90%, mentre banche non quotate che autodeterminano il proprio valore lo abbiano mantenuto o addirittura lo abbiano visto salire e crescere nel tempo. Si trattava solo di aspettare perché il mercato ha sempre ragione, i nodi sono venuti al pettine, portando alla ribalta i due casi ormai giunti alle cronache nazionali a punto di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca che come sapete ad aprile durante l'ultima seduta assembleare hanno visto decurtarsi gli azionisti, il valore delle proprie azioni mediamente tra un meno 23% e un meno 25%. Mi dispiace per chi in questo momento è in sofferenza finanziaria, si trova in criticità, però chi per definizione investe in azioni anche di banche non quotate fa un investimento in capitale di rischio e quindi si accolla il rischio di perdere anche interamente tutto il capitale. Gli unici a cui eventualmente può andare la nostra vicinanza e il nostro sentiment di simpatia possono essere tutti coloro i quali sono stati obbligati a sottoscrivere, ad acquistare le azioni per poter accedere a linee di credito o affidamenti e su questo sappiamo che a fronte degli esposti pronunciati dalle varie associazioni dei consumatori tra autorità di vigilanza e procure che stanno cooperando fra di loro, probabilmente nei prossimi mesi o trimestri vedremo i primi esiti, i primi risponsi dell'attività investigativa. Il terremoto, come abbiamo detto, è partito, ha trovato l'epicentro qui, anche se da Landscape che attorno a me non c'è alcuna filiale bancaria, ma ha fatto emergere delle criticità proprio della regione Veneto, ovvero come il microcosmo del credito cooperativo delle casse rurali, delle banche popolari non quotate abbia in regione Veneta, sia stato caratterizzato negli ultimi 10 o addirittura 20 anni di una mal governance caratterizzata da quel cliché riconducibile al modello del presidente padrone, un unico soggetto e qui potremmo fare svariati nomi per gli episodi di cronaca finanziaria che sono stati riconducibili proprio al territorio, tanto della marca trevigiana, della provincia di Padua o della provincia di Vigenza che negli ultimi anni ha costruito attorno a sé un vero e proprio feudo e questo feudo poi ha alimentato sistemi clientelari o concentrazioni di affidamenti nei confronti di pochi soggetti o addirittura di un unico settore come il caso dell'immobiliare o delle costruzioni edilizie portando nel tempo la banca in stress finanziario o in difficoltà patrimoniali. Non dimentichiamo per ultimo anche come molte banche dal punto di vista della governance siano completamente carenti in termini di competenze manageriali proprio perché non hanno saputo guardare avanti i prossimi 5-10 anni rendendosi conto di come il settore bancario e l'industria del risparmio gestito si stanno modificando e si modificheranno nei prossimi anni, quindi di follia crescere per dimensioni fisiche, acquisizione di filiali, quanto invece puntare, mirare, fare emergere nuove aree strategiche all'interno dei singoli istituti come ad esempio tutti i servizi legati alla multicanalità, ma questo ormai è storia del passato. Tutta l'industria riconducibile invece al circuito del credito cooperativo vivrà nei prossimi 3 anni momenti di profonda tensione a fronte delle obbligate operazioni di fusione che per il pressing delle autorità di vigilanza si dovranno effettuare per rafforzare le varie strutture di patrimonio e anche per snellire i costi e gli oneri di amministrazione. Non stupitevi pertanto se un TED dei circa 631 istituti di credito cooperativo presenti in Regione Veneto con oltre 600 filiali, oltre 5 mila dipendenti si ridurranno questi numeri probabilmente ad un terzo, quindi un ridimensionamento strutturale strategico per consentire all'intero settore di continuare non a vivere ma a sopravvivere. Per quanto concerne invece Veneto Banca e Popolare di Vicenza, con grande presunzione, pur conoscendo la roadmap che adesso aspetta i prossimi mesi in procinto di arrivare alla quotazione almeno per Popolare di Vicenza prevista per marzo 2016, in cui si aprirà in quel momento il vaso di Pandora perché là capiremo quante persone durante il primo giorno di negoziazione avranno la necessità di liquidare le proprie posizioni, ben sapendo che difficilmente le azioni, il valore delle proprie azioni ritornerà ai valori che conoscevano sino a qualche mese fa. Per chi invece detiene azioni, obbligazioni ed anche depositi all'interno di questo mondo deve essere ben consapevole dei rischi che lo attendono già da qui a qualche mese quando andrà a regime il bail-in, per cui si dovrà far carico di un'attività di screening per essere in grado di individuare gli istituti di credito su cui potrà fare affidamento e su cui potrà conferire, veicolare le proprie risorse finanziarie, confidando nella stabilità e solidità patrimoniale dell'istituto di credito prescelto in quel momento.